buongiorno e buona giornata e buona domenica a tutti cari amici bene ritorniamo allo stile classico ai video pre registrati e poi pubblicati ringrazio ho visto c'è stato un balzo da 44 e 46 iscritti grazie ai due nuovi iscritti parliamo di serie a i risultati di ieri atalanta samudoria 1 a 3 genoa inter 0 2 lasio bologna 2 a 1 invece le gare di oggi saranno cagliari crotone benevento napoli palma spezia fiorentino dinese juventus roma il monday night mila roma quindi la classifica al momento dice milan in testa 12 punti ovviamente con la partita con la roma da giocare sassuolo segua 11 inter terza a 10 atalanta quarta a 9 con la seconda sconvitta di figo san budorio quinta 9 napoli sesto a 8 juve settima 8 verona roma lazio a 7 benevento a 6 fiorentina a 4 come cagliari spezia e genoa udinese 3 parma 3 zona retrocessione bologna 3 questa è stata la quarta sconvitta stagionale è la terza di fila torino un punto e crotone un punto quindi vedremo cosa ci riserverà oggi la serie a e domani con monday night io vi saluto buon proseguimento di giornata e buona domenica a tutti e alla prossima hasta la vista buona ciao